Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Carla, perdonate il tono di voce, questa è Trevi X-Fest 550 Up una cassa audio amplificata bluetooth che in una sola parola definirei super versatile, forse sono due super versatile insomma a livello estetico Trevi X-Fest 550 Up non è proprio quella che definiremmo una cassa ultra portatile ha le sue dimensioni, è un bel tubo con una griglia in metallo, è una scocca prevalentemente in plastica di buona qualità all'interno di questo tubo oltre alle componenti principali c'è una catena di led, ci sono una serie di led multicolore questa è una delle sue peculiarità, sul frontale un'unica placchetta in plastica che va a conservare tutte quelle che sono i vari ingressi, le forme di connettività e il display, tutto da una parte in modo da lasciare il resto del design pulito sulla placchetta frontale c'è appunto un display, c'è il tasto accensione e spegnimento, play, pausa, avanti e indietro per muoversi fra le varie playlist, fra i vari brani e poi un tasto per una rotella per controllare il volume che si può anche premere per muoversi all'interno del menu, dal quale setterete le impostazioni di base principalmente le colorazioni del led la sorgente audio può essere di vario genere, potrete collegarla in bluetooth allo smartphone o altri dispositivi potrete sfruttare l'ingresso AUX con mini jack audio da 3,5 mm, un supporto USB grazie all'ingresso USB standard e potrete anche inserire fino a due microfoni che la cassa è in grado di amplificare uno addirittura è incluso in confezione, non manca ovviamente come ingresso anche quello dell'alimentazione a proposito di alimentazione, Trevix Fest 550 app è dotata anche di batteria interna questo la rende molto molto versatile perché avrete fino a più o meno misurato 7-8 ore di musica ovunque vogliate una musica molto potente, quindi non parliamo ripeto di una piccola cassa portatile per questo motivo sarà ottima sia al mare sia in un parco con gli amici per fare una festa ma perché no come nel mio caso può essere anche un ottimo elemento d'arredo l'ingresso USB di Trevix Fest 550 app infine può essere utilizzato addirittura per ricaricare lo smartphone o altri dispositivi, chiaramente andrà a prendere l'energia elettrica quando lo utilizzerete a batteria dalla sua batteria integrata, quindi fatelo solo in caso di emergenza onde evitare di togliere energia, autonomia energetica alla vostra cassa su Trevix Fest 550 app non manca neanche la radio FM però in questo caso dovrete utilizzare un'antenna esterna che potrebbero essere anche degli auricolari da inserire nel mini jack audio proprio per utilizzarla come antenna e quindi poter utilizzare la radio parliamo del comparto audio che è molto importante in una cassa qui abbiamo due speaker da 2,5 pollici, un woofer da 6,5 pollici un sistema che complessivamente ha un volume piuttosto alto non fate prove come me in condominio altrimenti potrete litigare con qualcuno inoltre i bassi sono ben definiti e anche i dettagli sonori in caso chiaramente di sorgente audio di alto livello vi sorprenderanno perché si sente veramente particolarmente bene all'interno del nome Trevi X-Fest 550 c'è anche app e non è casuale perché la connettività bluetooth serve anche a collegare la cassa con l'applicazione per smartphone smartphone android un'applicazione che vi consentirà di gestire praticamente tutti gli aspetti di Trevi X-Fest 550 app dalle impostazioni sonore come ad esempio l'equalizzatore alle playlist fino al set o meglio alla scena di luci da utilizzare come ad esempio se potremmo chiederle e comandarle di seguire il ritmo di musica e vi assicuro che è piuttosto divertente purtroppo però l'applicazione è in inglese e non ha un design che definirei proprio proprio accattivante però nonostante queste due piccole pecche il suo dovere lo fa e non perde praticamente mai la connessione con la cassa Trevi X-Fest app dunque si è rivelato un sistema audio da 40 watt super versatile e polifunzionale oserei definirlo un centro multimediale perché potrete sfruttarlo in vari modi e soprattutto in varie situazioni dando un'occhiata al prezzo che oscilla fra i 100 e i 150 euro ci si rende subito conto che il rapporto qualità prezzo è veramente interessante va a soddisfare le esigenze di chi non cerca l'ultra portatività perché non aspettatevi di poterlo mettere nella borsetta sì c'è una cinghia in confezione per portarlo in giro ma certamente non è una cassa che vi mettete sì sulla spalla e andate a fare quello che insomma quello che dovete fare e quindi una soluzione ripeto per l'ennesima volta versatile perché questa è la sensazione che mi ha dato bella da vedere con i suoi led che fanno subito festa la connettività bluetooth e l'utilizzo dell'app che è una cosa abbastanza rara la feature dei microfoni un prezzo tutto sommato contenuto decisamente Trevix Fest 550 app secondo me è promossa bene amici io vi ringrazio come al solito per l'attenzione se il video vi è piaciuto lasciate un bel like condividetelo, commentate nell'info box vi lascio un link con maggiori informazioni sul prodotto non dimenticatevi se non l'avete già fatto di iscrivervi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao